E' stata la Regione Campania a recuperare fondi per completare l'invaso spaziale di Grotta Minarda. Lo dice chiaramente il Governatore Vincenzo De Luca, ospite principale dell'evento promosso dall'amministrazione comunale grottese per inaugurare il corso Vittorio Veneto. Grotta Minarda è una realtà importante ed è uno degli interventi che abbiamo recuperato perché non avevano copertura finanziaria totale nella vecchia programmazione. Devo dire che siamo particolarmente contenti perché in tutta l'area noi finanziamo interventi per 100 milioni di euro sulla nuova programmazione. Interventi che riguardano edilizia scolastica, assetto idrogeologico, corpi idrici superficiali partono a settembre, i lavori per la realizzazione di reti fognari e in tutta la Vellinese per 31 milioni di euro. Dunque mi pare che ci sia un'attenzione giusta. L'opera in sé è già di un grande valore perché riammoderniamo il corso Vittorio Veneto, in banca a fare l'apposto lo facciamo a 100 anni dalla fine della Grande Guerra con la vittoria di Vittorio Veneto a cui è intitolato il nostro corso e al tempo stesso con l'ammodernamento dei sottoservizi perché stavano in fase di grande deparimento e un abbellimento generale per renderlo più attrattivo. Ma la questione prioritaria resta l'alta capacità in Valle Ufita. Sulla TAC, dopo le posizioni assunte dagli esponenti pentastellati, De Luca esprime i suoi dubbi rispetto ad un atteggiamento del governo giallo-verde a suo dire poco attento, confusionario e contraddittorio. Per la verità facciamo fatica a capire che diavolo abbia in testa il governo perché ogni mattina c'è una posizione diversa. Ovviamente per quello che ci riguarda queste opere rimangono ferme, faremo la guerra ovviamente se qualcuno tocca gli investimenti che sono stati previsti e programmati. Noi abbiamo registrato negli ultimi anni i processi di spopolamento delle aree interne. Uno degli obiettivi che ha la Campania è di frenare l'emorragia di giovani costretti ad andarsene via per poter vivere. Per fare questo abbiamo varato il piano per il lavoro rivolto ai giovani della Campania, visto che il governo dorme. E quindi a settembre credo partiremo con i bandi di concorso per le assunzioni dei giovani diplomati e lavorati negli enti locali della Campania. Ma è evidente che questo non basta, dobbiamo portare le aree interne, le infrastrutture, la banda larga che è decisiva per avere nuovi insediamenti industriali ed è evidente che non si possono perdere infrastrutture decisive come l'alta capacità, l'alta velocità.